Se nei prossimi giorni non pioverà, naturalmente la situazione sarà più critica e dovremo prendere altri provvedimenti come ridurre la portata e in alcuni casi anche reazionare l'acqua. Nella marca non piove e le conseguenze di un inverno caratterizzato dalla siccità non si hanno solamente con l'innalzamento dell'inquinamento nell'aria che respiriamo, ma anche con la riduzione delle riserve d'acqua disponibili nella nostra provincia. Alla TS stanno già correndo ai ripari. Essendoci un 30% in meno di acqua nelle risorgive, siamo costretti a ridurre anche la pressione dell'acqua, in particolare nella pedemontana. È una zona che ha questi problemi e quindi dovremo assolutamente tener conto. Dunque, se per ora in pianura la situazione rimane ancora accettabile, l'attenzione si concentra nella zona pedemontana, ovvero in quell'area che per le sue particolari caratteristiche sta soffrendo di più l'assenza di precipitazioni di questi mesi. Perché è ricaricata attraverso le risorgive, le sorgenti. Mentre in pianura non abbiamo questo problema perché abbiamo pozzi che pescono su falde molto profonde. Al di là di quelle che sono le contromisure che possono essere messe in campo dalla TS, però, l'emergenza è tale da richiedere anche la collaborazione dei cittadini, chiamati ad un impegno comune per un uso più attento dell'acqua, l'appello rivolto a tutti è di evitare qualsiasi spreco. Va importante non sprecarla, razionalizzarla e usarla solo se necessario. L'acqua va preservata, in particolare in questo periodo di emergenza.